Riflettere sull'Europa, sui valori che 60 anni fa ne hanno ispirato la nascita e che oggi populismi e sovranismi di varia natura stanno rimettendo pericolosamente in discussione. Fatta anche a Barletta la campagna Reflecting on Europe, promossa dal Comitato Europeo delle Regioni per raccogliere proposte e idee provenienti dalla cittadinanza che possano contribuire alla stesura di un parere sul futuro dell'Europa che sarà approvato dallo stesso Comitato nella primavera del 2018. Nella Sala Rossa del Castello un dibattito a più voci tra rappresentanti istituzionali, giovani attivisti e docenti universitari ha preso in carico le parole e le sfide del nostro tempo elaborate e trascritte dagli studenti dell'Iceo Scientifico di Barletta, protagonisti nei giorni scorsi di interessanti laboratori di formazione promossi dalla consigliere comunale Giuliana D'Amato e dal dottor Luca Lacerenza. Avvicinare i giovani all'Europa e alle esperienze che rende possibili, dicono a Barletta, è la maniera più efficace per opporsi alle forze disgregatrici che stanno nascendo al suo interno. L'Europa è delle giovani generazioni, di chi è nato europeo e di chi deve imparare a conoscere l'atmosfera, il sentimento, la voglia di essere un grande continente ricco di storia, di passioni, di cultura ma anche proiettato nel futuro. Lo sforzo di avvicinare maggiormente i cittadini alle istituzioni europee spetta soprattutto ai paesi fondatori come l'Italia. C'è stata una tendenza, direi, ad abbandonare le istituzioni europee, a operare a livello intergovernativo e spesso, direi, anche in seghi non facilmente individuabili, certamente non molto trasparenti. Ma questo è decisamente contrario ai principi fondamentali dell'Unione Europea, nei quali anzi è prescritto il principio chiamato di prossimità, in base al quale le decisioni vanno prese nella seghe più vicine ai cittadini. Allontanare paure e preoccupazioni per generare ottimismo e sfide positive. Gli incontri con gli studenti del liceo scientifico di Barletta hanno avuto soprattutto questa funzione, spiega la consigliere comunale Giuliana D'Amato, recentemente insignita dall'Anci del titolo di ambasciatrice d'Europa. È importante scardinare, diciamo, un certo tipo di retorica anti-europeista che tutti i giorni viene instillata nei pensieri dei cittadini di questo paese. Spesso lo si fa anche con molta incoscienza e solo con l'obiettivo, diciamo, legato alla politica interna, a raccattare un voto oggi. La nostra è una prospettiva più ampia. Il nostro interesse è che i ragazzi ricordino perché è nata l'Europa, come è nata l'Europa e che spazio di pace ha rappresentato per la vita dei suoi cittadini.